ok ragazzi sono qui alla fortezza del nether vicino allo spawn di blades che visto che le torce non lo rendono che non lo fanno sponare lo sto ricoprendo pian piano con dei blocchi in modo tale che penso che almeno con i blocchi riesco a farlo disattivare se non posso cavoli sono rimasto solamente con quattro cookie matto mi tocca andare a casa che ho poco cibo possiamo passiamo qui intanto i materiali posiamo i materiali e andiamo a casa che tanto ho recuperato alcune blades intanto che torno a casa distruggiamo anche qualche enderman ho 21 blades powder e uno di eye offender torniamo a casa che qua devo venire quanto molto cibo ciao cicci vieni piace devo tornare a casa cazzarola ragazzi vabbè torniamo a casa e poi torniamo in un altro momento quando ho un po' più di cibo e posso stare tranquillo 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 non mi dire che mi sono perso ok si va di qua e si torna a casa mi dovevo portare no sto tornando indietro mi dovevo portare un po' più di di cibo ragazzi grazie grazie tre quattro dai torniamo a casa che ho solamente una rovopotton ehi sono tornato alla fortezza mannaggia un'altra rovopotton questa rovopotton si sono tornato alla volta un'altra rovopotton Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sa che sto tornando indietro qua, cazzo. Oh no? No? Mi sa tanto di sì invece, ragazzi. Sì. Una cosa incredibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, sono senza cibo. Vediamo di andare piano. Cazzarola. Sì. 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 come un cazzo non ci poteva essere ah i maialonzi devo citare quelle per avere un po' di cibo mannaggia mia chi mi ha fatto venire qua e niente con poco cibo mannaggia mia chi mi ha fatto venire qua